buonasera amici e amiche ci sono grandissime novità nella casa del grande fratello e proprio questa sera andrei in onda una nuova puntata con alfonso signorini beatrice luzi e cesra buonamici che condurranno insieme a valega staffelli una scoppiettante puntata ma attenzione perché le novità non sono finite oltre ai sondaggi dove probabilmente ci saranno due super votati che al momento sono lorenzo spolverato e shay lagatta non ci sarà nessuna eliminazione ma i meno votati andranno direttamente allo scontro per la prossima nomination è proprio javier martinez e julia naomi bruschi andranno via dalla grande fratello si avete sentito bene ma non spariranno da questa edizione non sono stati eliminati non sono stati squalificati anzi tutt'altro andranno per qualche giorno al grande hermano vip che sarebbe la versione ovviamente spagnola del grande fratello anche se di vip non c'è più nulla adesso si chiama gran hermano questo scambio di inquilini tra le due edizioni gemelle del programma trasmesso in spagna sul tele 5 sembra che sia davvero in spagna un evento molto atteso dal pubblico il pallavolista argentino è molto conosciuto e la modella cubana dovrebbero quindi lasciare la casa del grande fratello nelle prossime ore forse subito dopo questa puntata di stasera e la notizia è stata anticipata da tantissimi media saranno quindi julia e avieri concorrenti del grande fratello che andranno in spagna e ce ne saranno anche degli altri che arriveranno in italia probabilmente maica benedicto una delle giffine spagnole ha scoperto che lascerà in reality per qualche giorno per venire in italia quindi scambio di concorrenti questa è una cosa che non è mai successa nelle edizioni del grande fratello e forse è un esperimento sociale e proprio maica è stata portata via dal grande fratello spagnolo per trasferirsi proprio in italia quindi scambio di concorrenti intanto vedremo cosa succederà stasera se alfonso signorini sicuramente interverrà sull'argomento noi vi chiediamo cosa ne pensate di questo scambio se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre grazie a tutti